Una collezione di reperti archeologici a casa di un dirigente della regione. La Guardia di Finanza ha sequestrato 19 tra Coppe, Lucerne, Uguentari, Crateri, Ascos, 9 monili in metallo e 33 monete, presso l'abitazione di un dirigente regionale di 56 anni. I militari di noto, con l'ausilio del personale specializzato della soprintendenza di Siracusa, hanno svolto le indagini coordinate dal procuratore capo Francesco Paolo Giordano. L'illegittimo possessore dei reperti archeologici, che non aveva dichiarato alla soprintendenza il rinvenimento o la detenzione degli stessi, è stato denunciato ed è scattato dal sequestro dei reperti. Tutti i reperti archeologici sequestrati sono stati messi a disposizione del personale specializzato in servizio presso la soprintendenza di Siracusa, che ne ha certificato l'autenticità, l'interesse archeologico e la necessità della tutela. In particolare, gli esperti hanno attestato che i reperti sono risalenti a un arco temporale che va dall' VI secolo a.C. all'epoca tardo-antico-alto-medievale. In questo contesto si inquadra l'iniziativa della Guardia di Finanza, Retusea, di organizzare e promuovere la mostra denominata La Luce dell'Onestà, che vede esposti centinaia di reperti archeologici che sono stati sequestrati dalle fiamme gialle e tombaroli, in oltre 50 anni di attività in difesa del territorio.